Servi Dio nei tuoi fratelli. Cristo risorto, buongiorno carissimi amici. Accogliamo la parola di Dio in questo giorno e leggiamo Marco 10, 32, 45. In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accaderli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli iscrivi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Lo derideranno e li sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno e dopo tre giorni risorgerà. E si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli, Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro, che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero, concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro, voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero, lo possiamo. E Gesù disse loro, il calice che io bevo anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro, Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. E chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Amen. Carissimi amici, continuiamo questo bellissimo capitolo decimo di Marco e vediamo che Gesù sta per salire a Gerusalemme. Ieri ci aveva lasciati con questo discorso. Voi avete lasciato tutto per seguirmi, ne avrete cento volte tanto. In case, persone, amici, cose, perché avete seguito me. Ma dopo quel discorso, finché Gesù stava salendo a Gerusalemme, i discepoli si rattristano. I discepoli addirittura sono accolti dalla paura, accolgono la paura di aver lasciato tutto. Gesù dice e annuncia un'altra volta, sappiate che qui a Gerusalemme il figlio dell'uomo sarà consegnato, verrà condannato, flagellato, verrà ucciso, ma poi risorgerà. Di fronte a questo annuncio, che certamente i discepoli non comprendono, ma spaventa, ecco che loro cercano una motivazione qualcosa che li fa passare la paura, io direi. Cioè chiedono a Gesù, in particolar modo Giacomo e Giovanni, maestro noi vogliamo qualcosa di grande, qualcosa di bello, noi vogliamo sedere insieme a te nella gloria, alla destra e alla sinistra. Della serie non ci interessa quello che accadrà al figlio dell'uomo, la sua consegna, la condanna, non capiamo queste cose. Siamo un po' spaventati. Invece parlaci di cose belle, della gloria che avremo. Anzi, io e mio fratello, direbbe Giacomo, anzi lo hanno proprio detto, vorremmo stare alla tua destra e alla tua sinistra. Quindi prometticelo, dai, siamo qui e dopo vogliamo essere con te nella gloria, essere esaltati, innalzati davanti a tutte le genti. Capite come siamo fatti noi uomini, cari amici? Siamo proprio come Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo. Poi gli altri chiaramente si indignano e tutti iniziano a litigare. Chi è il più grande? Chi non lo è? Gesù aveva appena detto, sappiate che il figlio dell'uomo morirà, ma poi risorgerà. I discepoli nella testa avevano altre cose. Il cuore era indurito. Quante volte accade a noi questa cosa? Ecco perché Gesù poi dice, volete essere grandi? Servite. Io, che sono Dio, che sono sceso nel mondo per salvarvi, io vi ho insegnato qual è la vera grandezza, servire e dare la vita. L'essere pastore significa essere amico e servitore. L'essere fratelli e sorelle in Cristo significa essere servi gli uni degli altri, amare come Dio ama. Quanto è importante oggi, quindi, alla luce di questo Vangelo, servire Dio nei fratelli che Lui stesso ci ha dato. Il servizio, che si esplicita in tantissime forme, dal parlare, all'agire, al comportarsi, al perdonare, all'amare, al benedire, viene dallo Spirito Santo. Ecco perché oggi lo chiediamo. Spirito Santo, entra nel mio cuore. Spirito Santo, entra nella mia mente. Riconosco di essere come Giacomo e Giovanni, cioè mi interessa più la mia gloria, le sicurezze, le certezze di essere qualcuno nel futuro, anche nell'aldilà. E spesso mi dimentico a causa di questo dei miei fratelli, dei miei amici, della mia famiglia, di coloro che Tu mi hai mandato. Spirito Santo, sciogli il mio cuore, riscaldalo con questa parola e aiutami a seguire Cristo, lasciando tutto per Lui, mettendolo al primo posto e avendo come modello soltanto Lui, il mio Maestro, il Servo dei Servi. A te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ecco lo slogan di oggi. Servi Dio nei tuoi fratelli. Troverai Cristo in coloro che hanno bisogno di te, che hanno bisogno di una buona notizia, che hanno bisogno del Vangelo. Sì, quindi, uno strumento di Dio nelle sue mani. E lasciamo perdere i desideri di grandezza, perché è proprio osservendo che saremo grandi. Cari amici, oggi abbiamo ascoltato Marco X. Quanto è importante comprendere la vita di questo evangelista, Giovanni Marco, come Lui ha scritto questo Vangelo e come ce lo trasmette? Chi erano i destinatari? Così comprenderemo meglio il messaggio cristocentrico. Ecco, lo scopo del seminario online, Gesù nei quattro Vangeli, che inizierà il primo martedì di giugno. Le iscrizioni sono sul nostro sito online. Quanto è importante assimilare da ciascun evangelista il contenuto, la forma di come hanno scritto per incontrare Gesù Cristo per ciascuno di noi che ci cambia e trasforma le nostre vite. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao.